All'indifferenza e superficialità degli amministratori locali fa da contraltare la sensibilità dei cittadini ed una mutata coscienza civica di molti, a partire dai più giovani. Il sindaco di Nocera Inferiore, impegnato da tempo a cercare soluzioni ad una vera e propria emergenza ambientale, aveva questa mattina convocato una conferenza dei servizi per concordare con tutti gli amministratori, ma anche con forze dell'ordine addetti ai lavori, azioni sinergiche di gestione comprensoriale del traffico veicolare. L'incontro si è svolto stamani al comune di Nocera Inferiore, ma ha visto una scarna partecipazione ed un'assenza dei sindaci delle città limitrofe di tutto l'agro, ad eccezione del sindaco di Rocca Piemonte. Individuare soluzioni più efficaci ed immediate per la risoluzione della problematica ambientale riferita all'inquinamento atmosferico rilevato nell'ampio territorio dell'agro nocerino sarnese, questo l'obiettivo che il sindaco turquato si prefiggeva riunendo intorno a un tavolo tutti i soggetti interessati che poi interessati non si sono rivelati. I dati delle centraline ARPAC parlano chiaro, i limiti previsti per legge, nella fattispecie il fatidico PM10, sono stati di gran lunga superati, di questo passo non si può continuare. Ne va la salute e la vita di un'intera comunità, nonostante i provvedimenti assunti dall'amministrazione comunale di Nocera Inferiore per contenere le emissioni nell'atmosfera provenienti dai fumi del traffico veicolare, delle caldaie condominiane e dei cammini privati, i valori non sono rientrati. L'inalzamento, ha scritto il primo cittadino turquato, è dovuto in particolare al congestionamento del traffico veicolare intercomunale, atteso che la città capofila dell'agro ha ormai concentrati tutti i maggiori servizi dell'intero comprensorio. Tenuto conto che le polveri sottili, sulla base dei più recenti studi epidemiologici, sembrano essere l'inquinante atmosferico maggiormente correlato con effetti sanitari negativi a carico dell'apparato respiratorio e cardocircolatorio e che l'urgente problematica non può considerarsi limitata al solo territorio comunale nocerino, si riteneva necessario il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali per individuare interventi immediati, certi ed efficaci. L'accorato appello di Torquato è rimasto però inascoltato. Al senso di responsabilità dei sindaci, dell'agro, sembrano invece timidamente esserci risposte dei cittadini che con i fatti vogliono dimostrare la loro rabbia, la loro preoccupazione per una situazione non più sostenibile. Esempi che invitano a riflettere dall'iniziativa per esempio del pedibus dei piccoli studenti in via Grimaldi a quella degli studenti di liceo scientifico che provocatoriamente hanno progettato una mascherina anti-smog per bambini, un modo dei più giovani per lanciare un grido all'allarme.